Musica Non ho segnato il tracker originale Però rim- Oh, 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 oh Peccato per la Cazzo, merda, merda La natura Zio Pera Cosa fa pure Tungled Fit Races evasion if Pokemon is confused Non è male Mica, questo Pokemon qua è sburo, peccato per la natura Però non dovrebbe salire così male in special attack Perché la natura con lo special attack meno Cioè, c'è caso che prende anche di più due Eh, peccato Comunque è un buon Pokemon, peccato Eh, special attack e speed invertiti sarebbe totale Eh no, brother, comunque un 10% in meno totale Cioè, se avessi avuto difesa Tanto passiamo Speriamo Pensiamo a passare qua Io farei Ma Seed Flair può ridurre la difesa speciale, altrettutto Zio, quanto è forte Seed Flair Farei psichico Eh, ti fa il più due Ha volato Waterspout, cazzo Per un attimo Ti fa il più due comunque Questo si trasta, cazzo Questo è forte Zio, questo si trasta È fortissimo sto robo Peccato per l'ability Che è ok, però non è buona da dire È un'ability che può tornare utile Questo si trasta Si va al primo primo al mosche, no? Di Flametraver ha più power, però Grazie di follow, ragazzi Molto bene Molto bene A 19 all'8 Eh, di special attack Che non è male in realtà Aveva 13 al 5 È salito di Di più 6 in tre livelli Però ti fa quel livello ogni tot Dove ti farà più 0 o più 1 Madre Madre O si prova seed flare Secondo me anche con psichico Ora l'ho sciotto Gli ho diminuito la difesa speciale Madonna il crit però, brother Che palle Bidrill Psichico Vez, io non mi starei a curare Vi curereste qua? Non ha senso curarsi, dai Buono Bene, molto bene Molto bene, cazzo Molto bene Devo vedere L'anno scorso mi sono divertito Una cifra Ma più che altro per Lo spot, come dire Facciamo i two wave Capo qua Molto bene Molto bene Dark Void Aspetta, aspetta, aspetta Ah, cazzo Dark Pulse è quella buona Non è Dark Void Però interessante Ma Dark Void non è bannata Raga, ho tanta curasi Non è bannata Grazie Kierals Comunque Non è bannata Non è bannata Non ha 100 curasi Non è banned La potremmo dare al posto di oltraggio Però no, probabilmente Dai, togliamo oltraggio Proviamo Però oltraggio è 120 power Sapete che non lo so È vero che oltraggio ti confonde Quindi è merda, ovviamente Noi vogliamo anche togliere Dark Void In realtà Cioè Non vogliamo tenere Dark Void A sto Pokémon C'è l'intento di togliere anche Dark Void Sta male Merda Psichico Stub però capo Buono Molto bene qua Molto bene qua Ecco tipo Qua ti fa il più uno C'è quel livello ogni toto Dove ti fa il più uno E non il più due Merda però brother Molto bene il crit Molto bene Il crit e il 15 Merda che stream è A livello proprio culturale Siamo sul pezzo In vari aspetti No secondo me Cioè aperte tutto Peccato Special attack al posto della speed Sarebbe totale Sto Pokémon Qua ci sono i Pokémon al 5 Contro Rotom Merda che sbura Rotom Zio Pera Cerco di usare Lit Wave Che gli psichici li vorrei tenere Qualcosa psichica Devo far full clear qua Importante Vabbè che c'ho una leppa In caso Guardalo Il Maranza qua Abnorme Deoxys Qua sono al 5 Quelli dei primi Lenatoria Dai serve una mossa buona Il 17 Cazzo Buono Ok Molto bene Proviamo a fare il full clear qua Il massimo uso la leppa Vorrei usare Lit Wave Sono un sacco di Pokémon Magari impariamo una buona mossa ora Vorrei tenere i psichici Withdraw Che merda Cristo Hit Wave Molto bene Dai abbiamo 7 psichici Mancano ancora però vari Pokémon Addormente all'80% È buona come mossa Però chiaramente la dobbiamo cambiare Cioè serve una mossa che faccia danno Qua Serve un PP Max Altro che qua sta run Quanto serve un PP Max Da 1 a 10 Cazzo 20 tipo Mud Keep Possiamo fare seed flare Va bene Così lo secco sicuro Comunque è pazzesco Sì i livelli sono bilanciati Yugong Facciamo seed flare anche qua Merda La pressure Che palle questa La pressure Cazzo Allora Manca questo E manca quello là Che c'è un Pokémon Al 18 Oltretutto Al 14 Non mi ricordo Oh madre Molto bene Brother Aspetta Non ho visto Cosa c'è scritto Aveva l'ability No way bro Non l'ho trovata In 6 settimane di pila L'ability Ho missato Forse ho missato Sapete Rego ho missato Ho missato 3 volte di fila Non mi risulta Ho missato 3 volte di fila Mi pare di sì Però è assurdo Ma vaffanculo Ma dai Non ci sto credendo Cazzo Brother ma non è possibile Incredibile Cazzo incredibile No 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 Avevo missato Avevo missato Ma è incredibile Ho missato 3 volte di fila Poi mi fa Protect C'è C'è solo questo Left Però Devo usare la leppa C'è Devo usare la leppa Gli do la leppa O la provo a fare con psichico Ma Secondo me Sto a full vita Posso provare a usare psichico Se poi sono obbligato Usa la leppa Se c'è un buio Usa la leppa Per forza Per forza Più 3 buoni Special attack Molto bene Madonna Santa O al 18 Madre Buono Molto bene Abbiamo usato una leppa Purtroppo Però molto bene Del resto Onestamente Molto bene Del resto Onestamente La MT70 Vediamo cos'è Molto bene Qua Allora Mentre votate Intanto vi apro Un pack di Zenith In collab con Fantasia Energia Rushing Hammer Dasclops Trekking Shoes Salandit Energy Search Rubin Dai Brodo però Blue Ah 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 brother Ah brother Ah brother Ah Pazzesco sta artwork di Entei Oltretutto Ma era pazzesco sta artwork di Entei E' bellissima sta roba Merda è stupendo Ve lo posso anche zoomare perché ho la top quality cam qua Cinema quality cazzo sta live brother E' bellissimo sto Sto Entei Allora si parte Ieri ho perso sta pale Oltretutto Ma a sinistra della pale è Agosi Se gli parli dopo però cambia Ieri avevamo già parlato prima Vediamo Che pokemon è Entei Quello che abbiamo pullato poco fa nella busta Suello psichico no? Va bene double kick Faccio it wave perché magari psichico mi serve Seed flare Molto bene Impariamo una mossa dai Sei serio bro Ma porco dios Che merda ste mosse Ok molto bene Ok molto bene Allora Zaino Allora ho due pots Un energy root Una fresh water Una soda pop Come berry Come berry c'ho questa Valutiamo Non gli darei le berry perché tanto nessuna work su di lui E' vero che si fa color centro Possiamo anche curarci usando dark void prima Sisco bello Eh pokemon è il 17 Posso provare a fare dark void In tua cura Cioè in tua pozza In tua attacco Dark void è troppo sgravo Cristo Tanta cura Se addormenta E' buono Io lo farei Forse è un turno sprecato Usare una cura così Viene di psichico Molto bene Molto bene La read Molto bene Molto bene qua Molto bene Dugong Seed flare Pulito Wishcash Merda La pressure Che palle Brother Dark void Che addormenta Molto buono Dark void qua Aveva la pressure Quel Dugong Molto bene Giù questo anche Dark void Carry Punto interrogativo Forse fare Hitwave Outrage Psichico shot Molto bene Omanite Psichico Molto bene Out of Non so cosa Però molto bene Molto molto bene Ufficialmente il primo Out of Qualcosa Molto bene Allora Devo saltare Gli allenatori Dirigermi nella stanza A Ah ok 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 Si c'è scritto in alto Questo qua è un allenatore Vabbè Me lo posso anche pullare Questo Cioè se me lo faccio Sti cazzi Dopo andiamo in su E in su In su Jump psichico No Molto bene What Cioè come è fatta A resistere Brother Che ho 10 livelli In più Assurdo Devo andare in giù Di là Vabbè Dopo Li faccio Sti allenatori No Grimmer Psichico Mi sa che lo userò Su Heat Wave No Cioè il top Serebbe arrivare al 33 E vedere cosa imparo Puoi scegliere su cosa usarlo Oh mamma Questo capo Lo addormento E ora non mi voglio più Gli dare le mosse Che palle Cristo Ecco Ho un dome Veramente Che palle Cristo Questo rompe i coglioni In una maniera Non indifferente Cazzo Molto bene Comunque Heat Wave qua Bene Anche questo fatto Qua ci dovrebbe essere Un item Nascosto Moonstone Questo allenatore qua Ha Dark Void La caria Comunque è forte Dark Void Sì Ha un domerang killer Perché ancora non ho imparato La mossa Questo è al 12 Capo Dopo do un PP Max Heat Wave Comunque Probabilmente Perché mi servirà Farlo prima di Imparare la mossa Al 33 Se voglio provare A fare un full clear Un altro PP Max Per il tender No Ma lo fareste su Heat Wave O su Seed Flare È meglio su Heat Wave Se vogliamo provare Il full clear Ho la Barry Ok Ricordiamoci L'allenatore Schippato sopra Assolutamente Sì È da ricordare Quello Agree Oh Cioè dov'è Sto tipo Per dire Oh Ok Fatto questo Ah ok 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 porti in un altro dungeon Ok ok Eh ragazzi Giocando blind Non so tutte ste robe Le impara oggi Poi dopo le so Le so Noctowl al 20 Assurdo che resistano Però porco Dios Spero che non ci sia un Pokemon Dark Altrimenti una merda Oh madre Brother Ma certe cose Veramente sono assurde Ah è vero L'allenatore di prima Non ci posso poi tornare qua Assurda sta roba Raga Ma quanto mi Quanto mi lock Eh Non penso di riuscire a fare il full clear Ragazzi Cioè come faccio a fare il full clear qua Mancano infiniti allenatori Ancora uno Due Tre Quattro Quanti Pokemon hanno Non lo riesco a leggere bene Troppo in piccolo lì Eh la leppa no L'ho usata La leppa l'ho usata Magnison Ho il PP Max Da da Right Wave Fate conto però Ho sprecato tre psichici Non li ho sprecati Brother Cioè lo guardi il gameplay Mi ha fatto in core Non potevo non fare psichico Devo per forza far psichico Non è che l'ho sprecato Ok bene Vediamo se ce la facciamo Dai Raticate al 17 Dobbiamo usare anche sti seed flare Onestamente Ariados Heat Wave Tegliamo psichico Bene Shotati sti due Ok dobbiamo Si va prima qua Ah no è qua L'item ok Oney Vespi qui ne combi Nugget Heat Wave Tienilo Si va bene Però ne ho sai Tiet Wave Allora c'è lei Come allenatrice Poi ce ne sono altri due Poi è full clear Dovrebbe essere così Sì ma Se non ho Palle Ok Più uno in special attack Ogni tanto lo fa il più uno Froslass 480 Heat Wave Che bello Froslass Bene Questa fatta Ce ne sono altri due Abbiamo 5 psichici 4 Heat Wave 5 seed flare Che ancora non ho fatto Quindi andiamo di Andrei di seed flare qua Usiamo sti seed flare dai Bene 14 Manchla Facciamo psichico qua Prendi l'item in basso Ok Questo è tipo il Il leader Che c'ha Ok Uno al 15 Che è su Icun Seed flare Molto bene E Nidoran Che è un angio di psichico Dovremmo aver fatto Ok Ora arriva il vecchio Che c'era prima Ok Ci porta fuori da qua Ok Full clear del dungeon Sharpen La merda Stoddard vuol dire buono Ma non è insano Regà È buono Sì Facciamo il save state Ogni tanto faccio il save state Per sicurezza Allora il vecchio Ti dà un mt Che puoi usare Dato che hai fatto il full clear E ho capito Però fa merda Sto mt Ok Dobbiamo fare la pale Quindi ora Però prima mi devo curare Quindi Baxi E il capopale Facciamo Baxi E dopo C'è il rivale Ok Il contrario di FireRed Che c'era prima rivale Poi dovevi fare gli allenatori C'era la pale Costanzialmente questo Quello che dobbiamo fare Bye Baxi 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 Grazie.